Gli studi del TG9 ben trovati da Giulio del Fiorentino con la collaborazione tecnica di Marco Cervelli per le notizie dalle altre province toscane. Ed iniziamo da Firenze. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato nei confronti di una cellula composta da cittadini pakistani che operava in Italia e in altri paesi europei e collegata a un network più ampio chiamato Gruppo Gavara, sua volta legata a Zehera San Mahmood, il 27enne che nel settembre 2020 attaccò la ex sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, ferendo a colpi di mannaia due persone. Ebbene, sono complessivamente 14 le misure cautelare emesse dal GIP di Genova ed eseguite sia in Italia che all'estero. Operazione antiterrorismo che ha interessato anche Firenze, dove la Digos ha arrestato un 23enne pakistano. L'accusa è di terrorismo internazionale. Ancora per la cronaca. Due tecnici sono stati indagati, interrogati e perquisiti dai carabinieri nei giorni scorsi per la vicenda delle microcamere installate nel vano docce femminile dell'ospedale di Empoli. Secondo quanto riportano la Repubblica e il Tirreno, i due avevano accesso alla stanza di servizio dove era installato un monitor collegato via cavo alla microcamera fissata nel muro della doccia usata da infermiere e dottoresse dell'ospedale. Sono circa 100 le sanitarie che usufruiscono di quelle docce. Si prospetta anche la possibilità di un'indagine per revenge porn. Folgorato in un incidente sul lavoro alla stazione ferroviaria di Chiarone Scalo nel comune di Capalbio in provincia di Grosseto, un uomo di 30 anni che, secondo quanto riferito dalla ASL, è venuto a contatto con i cavi dell'alta tensione durante lavori di manutenzione dell'infrastruttura. Il 118 l'ha fatto portare con l'elisoccorso all'ospedale Lescotte di Siena. Le sue condizioni sono gravi. Secondo una ricostruzione, il tecnico stava lavorando su un cestello aereo quando è stato colpito dalla scarica elettrica. Il trentenne lavora per una ditta che opera per il gruppo Ferrovie Statali. Sul posto anche gli uomini del servizio prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. La cultura tra gli ospiti a Firenze in occasione di Pitti Uomo arriverà anche Bruce Weber, famoso fotografo e regista statunitense, cui Dario Nardella, sindaco di Firenze, consegnerà le chiavi della città con una cerimonia il 16 giugno a Parazzo Vecchio. Weber sarà a Firenze per la presentazione del mini movie realizzato per il settantesimo anniversario di Roy Rogers e da lui stesso diretto. Il fotografo sarà ospite speciale alla cena in programma a Parazzo Vecchio il 14 giugno nel locale dei 500. ricordiamo che Weber ha lavorato per Calvin Klein, Versace, Dior, Lafloren, soltanto per citare alcuni dei brand per i quali ha fatto fotografie. È tutto anche per le notizie del Tg Regione, adesso ci fermiamo, poi torneremo più tardi con le notizie dalla provincia di Lucca.